Elettra Lamborghini è una delle diva millennials più chiacchierate di sempre. A margine della sua seconda partecipazione a MTV Supershore, il reality degli eccessi e della movida notturna dei ragazzi del mondo, spunta un'indiscrezione clamorosa rilasciata dal solito omnipresente D'Agospia. Stando al sito di Roberto D'Agostino, l'ereditiera considerata la Paris Hilton italiana avrebbe intenzione di proporsi alla redazione di Uomini e Donne per il Trono Lesbo. Ecco quanto si legge su D'Agospia. Qualcuno avverta Maria De Filippi che la bombastica ereditiera Elettra Lamborghini ha deciso di diventare lesbica e sta autocandidandosi a Trono Saffico. Nota per le sue controverse dichiarazioni, dal possibile ingresso nel mondo del porno in giù, Elettra Lamborghini potrebbe essere il personaggio giusto in grado di movimentare la ventunesima edizione di Uomini e Donne. Il formato di Maria De Filippi riparte il 12 settembre e, ad oggi, sono confermati quattro tronisti. Claudio D'Angelo, Riccardo Gismondi, la ex Miss Italia Clarissa Marchese e il primo tronista Gai Claudio Soma. Chi se ne frega.